Paradiso delle Signore Otto, le anticipazioni dal 6 ottobre, parte 2. Maria è in disaccordo con lo stilista riguardo all'allestimento della vetrina, ma alla fine i due riusciranno a trovare un punto d'incontro. Marcello, spinto dalla contessa, vuole aiutare Matteo e dargli una possibilità. Decide di organizzare una cena, alla quale invita anche Maria. Ma Matteo non ne vuole più sapere di Barbieri. La Puglisi decide di aprirsi con sua sorella e le racconta come stanno realmente le cose tra lei e Vito. La moglie di Ciro vorrebbe fargli un regalo in occasione del compleanno, ma questa situazione mette Maria sempre più a disagio. Con l'inaugurazione della linea maschile, Tullio si presenta in galleria, in incognito. È così bello che tutte le commesse ne sono affascinate. Anche Salvatore lo vede e inizia a pensare che non c'è gara. La collezione maschile è l'argomento della settimana e Vittorio vorrebbe che al Paradiso delle Signore ci fosse Gianni Rivera, per questo chiede aiuto alla contessa. L'atteggiamento di Matteo potrebbe cambiare. Marcello, infatti, gli mostrerà una lettera che lo colpirà molto.